Tutto pronto per l'inizio del match tra Vannella e Antidomo, quest'oggi vedono la pesantissima assenza del capitano Danilo Prodomo, la squadra casaccata e maglia bianca, Vannella con il solito ormai completino maglia azzurra Napoli, subito Bianco, palla del Panico, la gira su Otranto, palla all'indietro, palla dentro, Panico la butta dentro e c'è l'1-0 per quelli del Vannella, 1-0 dunque, sbloccato il risultato, ma l'attenzione per Otranto, 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 palla sul fondo, ancora Panico, Panico il destro, la risposta di Santo Paolo e poi sorgente, grande giocato, palla ancora per Panico, Panico, le finte Panico, mamma mia, vicinissimo al gol del doppio vantaggio, Antonio Panico, palla dentro Vannella, la scicca, tenore, a tu per tu tenore, grandissima risposta del portiere di Vannella, su tenore, attenzione, palla dentro, grande intercettazione di Otranto, che la butta direttamente dentro, 2-0, quelli del Vannella, avevano rischiato di prendere il pareggio pochi secondi fa, ma adesso, siglano il doppio vantaggio, e il tiro ancora la risposta, non è finita, palla che rimane lì, sorgente, palla dentro, Otranto, ancora, vicinissimo al gol, scatenatissimo oggi, Otranto, il tiro, la risposta ancora di De Luce, miracoloso, De Luce, in più di un'occasione, panico, palla dentro, Otranto, controlla, Otranto, il tiro, e ancora Otranto, per il 3-0, non può nulla, Santo Paolo, ancora Otranto, tutto pronto, tenore, carica il destro deviato, calcio d'angolo, per gli antidopmo, attenzione, Otranto, Otranto, a tu per tu, scatta anche Santo Paolo, Otranto, e c'è la tripletta, di Otranto, e c'è anche il 4-0, per i ragazzi, di Mirko Vannella, che grossissimo, tenore, mancino di tenore, e si chiude qui, il primo tempo, tra quelli del Vannella, e antidomo, sul punticcio, 4-0, per quelli del Vannella, ricomincia il secondo tempo, tra quelli del Vannella, e antidomo, ricordiamo il punteggio, di 4-0, per la squadra in maglia celeste, Napoli, quest'oggi, balla subito, per Silvestro, grande controllo di Silvestro, Silvestro, prova il destro, che giocata, per il 5-0, passivo un po' pesante, visto comunque, le grandi azioni, da parte dell'antidomo, nel primo tempo, che però, non hanno fruttato nessun gol, il tiro, e c'è il gol, di piccolo, e, forse, riapre il match, ci crede tenore, e subito, raccoglie la palla dalla rete, 5-1, dunque, il punteggio, gli antidomo, che trovano nuova verde, trova, bianco, la pende di pallone, Occhio che si è galvanizzata la squadra di Prodome, piccolo, palla per la sorgente, il tiro De Luce, la risposta, incredibile, ancora una volta, miracolosa, di De Luce, poi siamo già dall'altra parte, parte Panico, la salva sulla linea tenore, Otranto, anche di testa, grandissimo lancio di bianco dalla difesa, e c'è il 6-1, che spezza di nuovo le gambe, alla squadra di Prodome, si è sentita, forse, l'assenza del carisma del capitano, brutta partita ieri, vai, c'è tu, il tiro, e c'è la buccia, questa volta, di Santo Paolo, ancora una volta, Otranto, ha buttato da dentro, 7-1, palla ancora, Silvestro, Silvestro, Otranto, Otranto, Santo Paolo, questa volta, miracoloso, il tiro, oddio, la butta via, sezione, grande giocata, tenore, piccolo, bianco, lo si da terra, ancora, se ne va, sorgente, sorgente, tocco sotto, che azione di sorgente, e poi dall'altro lato, direttamente, panico, panico per Silvestro, Silvestro, e non sbaglia, ed è 8-1, e c'è ancora, la rete, di bianco, 9-1, che vannella, signori, quest'oggi, non puoi, parla mai fuori, più tu, e si chiude, sul punteggio di 9-1, la partita tra quelli del vannella e antidomo, il migliore in campo della partita, vinta da quelli del vannella, per 9-1 contro gli antidomo, una partita che doveva essere più equilibrata, ma invece voi, avete surclassato i vostri avversari, specialmente tu, autore di quanti gol, quest'oggi? 4-5, non mi ricordo, hai giocato più avanzato, pensi che questo potrebbe essere un tuo nuovo ruolo? No, vabbè, noi ci alterniamo, io e l'altro attaccante che è infortunato, però bene o male, anche gli altri lo so fare anche il mio ruolo, grazie a questa vittoria, la classifica come si lancia? No, noi cerchiamo di vincere tutte le partite, oggi è stata abbastanza facile, perché abbiamo giocato in modo impeccabile, speriamo di continuare così. Vuoi dedicare questo poker a qualcuno? No, Fabio, in America non viene, perché siamo buoni a questi. Va bene, grazie, alla prossima. Grazie a tutti.